La pandemia da Covid-19 è stato un evento travolgente, rivoluzionario, ci ha catapultato tutti in tempi brevissimi in un futuro, in un presente che non avremmo mai potuto immaginare che potesse esistere, forse in qualche libro di fantascienza di serie B, ma non avremmo mai pensato che ci saremmo trovati a vivere come abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Che questa pandemia avrebbe portato delle conseguenze sul piano della salute mentale è una cosa chiara a chi di questo problema se ne occupa, infatti sin dall'inizio abbiamo chiesto alle istituzioni di mettere nei vari tavoli tecnici e scientifici anche la figura dell'esperto della salute mentale, cosa che purtroppo non sempre è avvenuta, ma le conseguenze non si sono fatte attendere. Le abbiamo viste sia sulla popolazione generale, abbiamo fatto degli studi che hanno riscontrato come oltre l'80% della popolazione generale ha sofferto di sintomi di ansia, depressione, insonnia, disturbi fisici senza correlato strumentale, ma abbiamo notato anche che tra coloro che hanno sofferto dell'infezione del Covid correlata vi è una percentuale fino ad un terzo che ha manifestato un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress. È una percentuale addirittura superiore a quella che ha sofferto dello stesso disturbo dopo l'attentato delle torri gemelle. Quindi è un'emergenza vera e propria ed è assolutamente necessario che le istituzioni pubbliche e private si organizzino in modo da rispondere alla sempre crescente domanda di assistenza psichiatrica in tema di psicotraumatologia. Grazie a tutti.